Buongiorno a tutti e bentrovati con la rassegna stampa di Molise TV. Vediamo subito insieme i titoli di oggi, lunedì 29 giugno. Iniziamo proprio dal quotidiano del Molise. Frattura, razionalizzare i costi, edifici pubblici green, 4 milioni in arrivo. E' arrivato l'ok al bando della giunta regionale. Il monito lanciato dal sindacato, la Wiltux, in un anno nessun aumento dei posti di lavoro. Termoli, ritardine, rimborsi, convenzioni per i celiaci a rischio. Rottweiler uccide i cani da tartufo, il padrone si vendica. Colpi di ascia, armato di accetta, è sceso al pian terreno del palazzo e ha decapitato l'animale. Orrore in località Civitelle ad Agnone, indagano i carabinieri. L'autore del gesto rischia grosso. Fornelli, vasto incendio, richiede l'intervento del Canadair. Termoli perde il controllo dello scooter 52enne in ospedale. Continuiamo con la cronaca. È successo in un condominio di Campobasso. Giovane ventenne si cala i pantaloni e si masturba sotto gli occhi della signora delle pulizie. Denunciato. Sant'Elia a Pianisi, malato di Atassia. L'Inps sta meglio. Sospeso l'accompagnamento. Vediamo lo sport. Slalom di Cerce Maggiore, Brinda, Mauri, Gargano. Serie D Campobasso, Bernardo, nel Mirino. Il 18 luglio parte il ritiro. Da mercoledì le prime firme. I Serni ha corato appello di Muccio al sindaco Brasiello in vista dell'iscrizione alla Serie D. Vediamo adesso il quotidiano online Futuro Molise. Petraroi attacca i molisani che simpatizzano per la Lega Nord. Appoggiano un movimento antimeridionale che non vuole investimenti al sud. CGL Molise appogge sostegno alla lotta del mondo della scuola. Intanto la mobilitazione va avanti. Il 7 luglio presidio a Montecitorio. Guerriero Sannita, SOS, il calcio a Isernia non deve morire. Brasiello mantenga gli impegni presi. Vediamo i titoli di primo piano Molise. Ex assessore in manette Frattura difende la regione. Il governatore rompe il silenzio. La procura esclude qualsiasi ipotesi di commistione. Questo basta per sgombrare il campo dai dubbi insinuati da chi ha fatto di peggio. Iorio Taccia è rimasto in carica nonostante la condanna. Domani il presidente chiederà la fiducia. Si masturbava davanti alla donna delle pulizie. Ventenne nei guai incastrato dalla mobile di Campobasso. Raccolgono soldi per il campus estivo ma è un imbroglio l'allarme a Isernia. La mobilitazione, emergenza lavoro senza soluzione, willa l'attacco finché non decide che futuro dare al Molise. La casta, rinunci allo stipendio. Il sindacato fa la voce grossa, unica vertenza chiusa, quella del segretario del PD. Agnone, Rottweiler, Sbrana, cane da tartufo. Il padrone si vendica e lo uccide a colpi d'ascia sul caso indagano i carabinieri. Più volte deputato, fondola col diretti Vittorino Monte, politico del fare, ricordo a 15 anni dalla scomparsa. Campobasso, acquisti online il decalogo della polizia postale per evitare le truffe. Vediamo anche qui lo sport serie D, Campobasso per chiudere l'attacco si pensa a Vittorio Bernardo. Judo, una medaglia d'oro e un bronzo a Graz con Luigi continua la storia dei Centracchio. Abruzzo, Vastese, periodo di passione per la tifoseria, entro 20 giorni l'iscrizione. Passiamo all'altro quotidiano online, in forma molise. Vediamo anche qui le notizie di attualità del giorno. Ricerca e salute incontrano la gente, i campanili della salute, a Rocca Mandolfi. Laudato sì sulla cura della casa comune, Brigantini presenta la nuova enciclica di Papa Francesco. Giostra degli Anelli del Palio di San Nicola, vogliamo il riconoscimento dei nostri diritti. A Termoli, la 5 giorni di alto livello dedicata al beach tennis. Rimozione dei rifiuti in spiaggia e con partecipazione alla spesa da parte della regione, venditelli proposta condivisibile. La Will, la politica che non porta soluzioni, non merita il suo stipendio. Esclusivo annullo filatetico per i 50 anni dell'AIS che verranno festeggiati a Isernia. Previsioni trimestre estivo, un'estate instabile. E adesso vediamo le notizie che riguardano il Molise, che sono riportate sul Sagno Quotidiano di oggi, di questo 29 giugno. La notizia che riguarda il Molise la troviamo nel taglio basso, fitto per casa vacanze, truffe in aumento e consigli della Pol Post. Ma vediamo insieme nel dettaglio l'interno. Andiamo quindi alla pagina che riguarda il Molise. Truffe in aumento, la Polizia Postale mette in guardia i turisti che si apprestano a prenotare su internet le strutture per il soggiorno molisano. Il dirigente Antonello Fratamico, episodi frequenti in estate, occhio agli annunci che richiedono versamento di anticipi. Nuovi progetti, edifici pubblici green, avviso pubblico da 4 milioni di euro. Il presidente della Giunta regionale, Paolo Frattura, spiega la novità. Razionalizziamo i costi e rispettiamo l'ambiente. Si parla anche di Isernia, città in festa per la Fiera delle Cipolle. Tanti gli appuntamenti inseriti nel cartellone dell'edizione 2015 presso l'Auditorium Unità d'Italia, inaugurata una mostra fotografica dedicata agli scatti di Federico Labella. Questa sera in scena la commedia, senza parlace capemma, di Maurizio Veneziale. Si parla anche di calcio. L'Isernia FC rischia il fallimento. Giovanni Muccio mantenere gli impegni. L'appello del guerriero Sannita al sindaco. San Pietro Celestino torna a Isernia. La dioce si pronta ad accogliere il suo santone. E adesso passiamo alle notizie della stampa nazionale. Leggiamo i titoli del Corriere della Sera. La Grecia sul baratro chiude le banche. Si ferma anche la borsa. Limiti a bonifici, assegni e prelievi. Draghi impegnati ad aiutare le economie fragili. L'emergenza. L'annuncio dopo la decisione della BCE di non concedere ulteriore liquidità. Il Premier in TV. Ci faremo, non ci faremo ricattare. Obama chiama Merkel. Padoan, abbiamo armi contro le speculazioni. Intervista al ministro. Nessun rischio per il debito pubblico. Nel politico, leader in crisi di popolarità sale Salvini e arriva al 36%. In cerca di soldi la notte di Atene. Il guaio di essere assunti da un algoritmo più veloce e meno corruttibile dell'uomo non avrebbe scelto un editore come Bollati. E adesso vediamo le notizie del tempo. Pure i rifugiati nel racket dell'anguria nera. Il dossier recco come gli immigrati dei centri di smistamento vengono sfruttati nei campi di raccolta. Matrimonio d'interesse. Il terrorista Battisti si è sposato con una brasiliana. Ora farlo tornare in Italia sarà ancora più facile. Buzzi e la cooperativa, vi racconto la verità segreta, parla Rega, fondò la 29 giugno. Domani riparte la destra, storace, ora solo volti nuovi. Il debito con l'Italia e il falimento greco ci costa 65 miliardi. L'inchiesta del tempo, lo stadio della Roma tra stazioni e tre nuovi ponti. Io disabile, disperata, in metro, viaggio nel degrado della metropolitana e il giubileo si avvicina. Dal tempo leggiamo adesso il giornale. Anche qui si parla del caso della Grecia. O la borsa o la vita. Chiuse banche e mercati per sei giorni. Atene a un passo dal default e potrebbe trascinare nel baratro anche l'Italia. Berlusconi, Grecia e migrazione, colpa dell'euro burocrazia. Guro a scoppio ritardato. Scalfari si accorge solo ora che l'Europa è una fregatura. Braccio di ferro perché l'FMI ha fatto saltare il tavolo della trattativa. Scatta l'allarme terrorismo nei porti italiani, servizi segreti britannici, pericolo, nuovi attentati nei resort tunisini, l'emergenza jihadista. L'icona che si commuove ma non si arrende, le lacrime e l'orgoglio di Catrina, bisogna combattere gli stragisti. Disastro politico, cinque motivi per cui l'Occidente perde contro l'Isis. Passiamo adesso alle notizie sportive e leggiamo insieme i titoli di oggi della Gazzetta. Si parla della Coppa America ricaduta degli Dei, la Sele Sao a casa. Dopo il flop mondiale i brasiliani si ripetono in Coppa, Paraguay ok a rigori. Questa notte a lunedì 30 la prima semifinale. Cile-Perù in diretta su Gazzetta TV. La Serie A torna prima, già spesi 266 milioni, nessuno come noi. Dopo anni di prestiti e fine contratto, il calcio italiano riprende a investire, restano dietro Spagna, Inghilterra, Germania e Francia. Per far quadrare i conti, ora bisogna anche vendere. L'intervista in campo, Ambrosini, Mancio e Sinisa, la strada è giusta. Qui Milan, Mossa sorpresa in difesa, Mexes verso il prolungamento. Qui Inter, in Bula, in Bilico, riecco Melo, sala oggi la risposta. Altri affari, Fernando Samp è fatta, Napoli stringe per Saponara. Troviamo anche una notizia di basket. Milano è gentile, resto il fuoco della rivincita. Tennis, Wimbledon, Alvia, Federer si riscopre in formato SLAM. Bene, con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Vi lascio ora alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Arrivederci. Il meteo è offerto da Iscriviti alla sezione Primavera Bilingue dell'Accademia Britannica. Occorre essere tanto grandi per prendere sul serio le cose dei piccoli. Previsioni del tempo per lunedì 29 giugno. Un campo anticiclonico interessa il Mediterraneo centro-occidentale abbracciando anche le regioni di sud-est, garantendo tempo più stabile e assolato ovunque. Cieli pertanto sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, salvo locali velatori di passaggio. Ventilazione tesa dai quadranti settentrionali, mari generalmente mossi, specie l'Adriatico. Temperature stabili, un ulteriore rialzo nei valori massimi, con punte localmente superiori ai 30 gradi all'interno, più fresco, lungo la costa adriatica. Campobasso minima 15, massima 25 gradi. Isernia minima 17, massima 25 gradi. Termoli minima 22, massima 24 gradi. Il meteo è stato offerto da Signora, dico a lei. Acconseglie assegni, spendi e risparmi di Molise TV. Corri a fare la spesa. Spendi e risparmi conviene. Spendi e risparmi non sono sconti, ma veri e propri assegni spendibili. Con noi la famiglia raddoppia gli acquisti. Dai un calcio alle rinunce quotidiane. Spendi e risparmi di Molise TV e la famiglia torna a sorridere. Spendi e risparmi di Molise TV Una assidurale. Spendi e risparmi di Molise TV Inselò o latoani. Spendi e risparmi di Moliseigioni i piaccabili di Colise. Spendi e risparmi di Noida. Spendi e risparmi di Soli.